Che fine ha fatto l'ingegnere Brian Malin, idolo dei terrapiattisti? Un uomo che, in cappellino e maglietta, cercava di confermare la teoria della terra piatta, con basi scientifiche? Nel 2017, dopo aver pubblicato diversi video, qualche intervista radiofonica ed essersi fatto invitare ad una conferenza sulla terra piatta, è sparito completamente da YouTube. YouTube. Cancellando il canale e tutti i video che aveva caricato. Il complotto è servito su di un piatto d'argento. Fatto fuori dai poteri forti? Convinto ad esistere dal pubblicare video? Chi lo sa? Beh, io l'ho trovato. Non che fosse particolarmente difficile, anzi, è bastato poco, molto poco. Un amico ingegnere, un'imbeccata corretta, una ricerca su Google e l'ingegnere è riapparso come per magia. Prima di tutto, a chi si domanda se Malin sia veramente un ingegnere, la risposta è Sì. Lavora per questa società, dove ricopre il ruolo di ingegnere strutturale capo. Senza dubbi è lui, senza cappellino e maglietta, in giacca, bello e sorridente. Sotto troviamo la sua biografia. Interessante Ha pure firmato un progetto, la copertura del tetto di una stazione dei vigili del fuoco. Con firma, e-mail, dati vari. E con il timbro. Se ci sono riuscito io a trovarlo, poteva trovarlo un Tinelli qualsiasi, vero Dino? Ma veniamo alle parti più interessanti della sua biografia. La sua carriera da terra piattista comincia nel 2015 e termina nel 2017. In questi due anni avrà smesso di lavorare? No, non ha smesso, anzi, ha lavorato in Florida per il settore pubblico, nelle autostrade. Nel 2016, nel pieno dei suoi video, è stato assunto dalla società dove tuttora lavora. Nel 2017 passa l'esame per diventare un ispettore certificato nella sicurezza dei ponti stradali. Per puro caso, sempre nel 2017, cancella il suo canale e tutti i video da YouTube. Inoltre sappiamo, che possiede la licenza per l'esercizio della professione di ingegnere strutturale in quattro stati degli USA. Ora, vada se capire che, un ingegnere, laureato, certificato, con quattro licenze, che ha passato esami di alta specializzazione, non può negare l'esistenza della gravità. Riassumendo Brian Malin, mentre pubblicava video a sostegno della Terra Piatta, video pubblici, che tutti potevano vedere, firmava progetti, lavorava per enti statali, certificava ponti, prendeva attestati di specializzazione e veniva assunto, nello stesso periodo di vita del suo canale. Cari amici terra piattisti, l'idea che vi stesse beatamente prendendo in giro, che monetizzasse ampiamente sulle vostre visualizzazioni, non vi viene in mente? Quest'uomo, contemporaneamente, vi diceva pubblicamente, quello che volevate sentire, e, nello stesso tempo, sempre pubblicamente, lavorava per quello che, definite, il sistema corrotto? Siamo forse di fronte ad uno dei migliori troll mai apparsi sulla Terra Sferica? Ma una domanda nasce spontanea, in due anni, tra la fine del suo canale ed oggi 2019, nessuno, e dico, nessuno di voi, è stato in grado di trovarlo? O, forse, l'avete trovato, vi siete accorti che vi ha preso in giro, e ve ne siete stati in silenzio? Per fortuna, siete dei, ricercatori indipendenti. Con un pochino di pazienza, una ricerca in inglese su Google, l'ho trovato io, e voi no? Oh, la Madonna poverina da Dio! Con queste meravigliose premesse, posso solo essere estremamente convinto dell'ottima qualità delle vostre ricerche. Con un saluto ed un augurio di una splendida giornata, vi mando un bel bacino. Grazie a tutti!